I viola presentano il loro nuovo singolo, Esce oggi o vera amore. O fa tornare un po' che bacio ti intoco. Il canio della musica pop è la canzone napoletana, che è tradizione, passione ed identità. L'uscita è accompagnata da un'immagine di copertina suggestiva, che riesce a rappresentare al meglio l'essenza del testo del brano. Una bellissima opera della pittrice e artista napoletana Emilia Della Vecchia, dal titolo Abbraccio. E' proprio quell'abbraccio con il pubblico, tanto mancato in questo periodo, che i viola tentano adesso di recuperare, attraverso un messaggio universale che esalta il vero amore. Un amore, quello descritto nel testo, che in alcune circostanze bisogna lasciare andar via, anche se con grande difficoltà e dolore, accettando la fine con la consapevolezza che dentro di noi non morirà mai. Insomma, i viola sono tornati, e ascoltandoli basta poco per far tornare un po' di pace nel cuore, proprio come recita il brano. Il nuovo singolo dei viola è disponibile su tutti i maggiori canali di musica online, come Spotify, o sul canale YouTube Viola.